Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale e oggi vi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato dal mulino dal titolo Un Medioevo di abbracci, non solo d'amore, non solo umani, di Virtus Daliot che abbiamo il grande piacere di avere nostra gradita ospite e alla quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di questo Medioevo di abbracci. Prego Virtus a te. Grazie Maurizio e ben ritrovati a tutti. Ecco, un Medioevo di abbracci con un sottotitolo. Perché il sottotitolo? Perché mi sono accorta che quando ho iniziato a parlare di questo libro tutti si aspettavano soltanto gli abbracci affettuosi tra innamorati e amanti. Pensiamo prevalentemente a questo. Mi interessava invece allargare questo repertorio ed allargarlo ad altri, quindi non solo d'amore e non solo umani. Perché? Perché la declinazione degli abbracci, del significato e del senso degli abbracci è davvero molto molto più ampia. Io l'ho indagata nell'arte e nella letteratura del Medioevo, quindi nell'arte visiva e nella letteratura del Medioevo. Ritrovando che cosa? Come al solito un Medioevo entro cui possiamo rispecchiarci, perché è questo che mi interessa, evidenziare come ci sia sempre una forte relazione tra quei gesti così lontani e il nostro presente. Perché quindi osservarci nel Medioevo? Perché come sappiamo nel Medioevo la descrizione anche dei gesti tende a essere molto plateale, no? I gesti sono molto accentuati sia nella narrazione che nella traduzione visiva e quindi sono una sorta di lente di ingrandimento dentro cui osservarci meglio, però per tipologia, per significato, per valore dentro la storia. Sono davvero, sono i nostri e questo credo sia un aspetto per cui può diventare interessante, no? Quest'indagine, perché altrimenti resterebbe una cosa che ci allontana. Ho fatto fatica a classificare questi molti abbracci in capitoli perché gli abbracci sono tendenzialmente hanno una valenza multipla, no? Molto spesso hanno un significato ma ne hanno anche un altro e ne hanno anche un altro. Quindi ciascuno di questi abbracci avrebbe potuto ricomparire in molti capitoli e questo ci conferma la ricchezza di questo gesto, ricchezza che se ci pensate è molto spesso anche così evidenziata nella cronaca, proprio intendo di oggi, quanti abbracci ci capita di osservare nei giornali o nella cronaca, più o meno sinceri perché poi c'è anche questo aspetto. E quindi proprio da qui sono partita, cercando di comprendere qual era il ruolo dell'abbraccio e scoprendo come è sempre importante. L'abbraccio è sempre uno snodo narrativo, l'abbraccio è capace, è il motore a volte di una storia oppure è un gesto che modifica il corso di una storia, oppure nell'arte visiva è sempre un nucleo espressivo molto importante, è un qualcosa che deve essere osservato, che richiama la nostra attenzione. Detto questo, quindi ho cercato di organizzarli per capitoli. Il libro è anche accompagnato da un ricco repertorio di immagini, quindi molte delle immagini che si citano nel testo poi sono comunque pubblicate, anche se le immagini che ho scelto sono solo esemplificative di un patrimonio molto molto più ricco, quindi possono sicuramente poi essere integrate. I testi che ho osservato sono di tipologia diversa, ecco, quello che mi importa dire è che io non sono una storica, quindi non l'ho analizzato da un punto di vista, non li ho analizzati nella storia, ma nell'immaginario. Quello che mi interessa è proprio il valore che vengono ad assumere nell'immaginario, scritto o raffigurato. Il libro quindi è organizzato per capitoli e il primo è dedicato proprio agli abbracci d'amore, agli abbracci tra innamorati, andando ad osservare però come anche dentro questa tipologia vengono ad assumere dei ruoli diversi. La prima cosa che mi ha colpito è come gli abbracci diventino il motore di molte storie, o meglio, il desiderio di abbracciare muove davvero mari e monti. Ci sono quindi poeti, ci sono quindi eroi davvero che inseguono e sono disposti ad affrontare delle difficoltà immaginabili pur di raggiungere l'abbraccio dell'amata. Dove l'abbraccio però che cosa significa? Anche su questo bisogna riflettere un momento, perché l'abbraccio può significare cose diverse. L'abbraccio è semplicemente il cingere con le braccia, quindi un gesto abbastanza anche pudico se vogliamo, però questo termine proprio a partire dal latino significa anche l'amplesso, quindi significa anche cercare il rapporto sessuale che molto spesso non viene così esplicitato, tantomeno nelle immagini, ma l'abbraccio significa anche questo. Infatti molti abbracci secondano, quindi ci si abbraccia e successivamente nasce un bimbo, quindi questo ci spiega come sia ricco anche al suo interno. L'abbraccio tra due amanti può essere casto, può essere invece risolutivo. E qui ho cercato di analizzare proprio come si celebri a volte, no, ancora prima, qual è il tipo di abbraccio più agognato, più rincorso, quello che porta i nostri eroi ad affrontare davvero delle vicende, delle avventure incredibili, quello adultero. È molto più interessante di quanto non sia l'abbraccio coniugale, perché l'abbraccio adultero davvero impone e propone tutta una serie di difficoltà. In effetti i grandi amori che noi conosciamo e quindi i grandi abbracci che noi conosciamo sono quelli tra un Tristano e un Isotta, tra un Lancillotto e una Ginevra e tantissimi altri, ma con una disinvoltura che a volte ci stupisce. Questa è la prima annotazione. Davvero con una disinvoltura, con l'assenza anche di particolari sensi di colpa, quando invece c'è l'altro lato della medaglia, la demonizzazione di qualsiasi abbraccio, anche il più puro, anche il più casto. Quindi ci sono queste due dimensioni opposte, queste due dimensioni diverse, dove tra l'altro nel XII-XIII secolo c'è proprio anche la celebrazione dell'amore puro, cioè del fermarsi all'abbraccio e quindi di questa ricerca di un'intimità che non persegue l'apporto sessuale vero e proprio, ma si accontenta diremmo noi dei preliminari, delle coccole, con un'attenzione tra l'altro alla dimensione femminile che è modernissima, di contro a una celebrazione invece dell'amore virile, dell'amore forte. C'è anche questo aspetto che mi è molto interessato, quindi questi abbracci che sono in fondo fine a se stessi, dove però di nuovo l'abbraccio significa tante, tantissime cose. Non so, c'è il trattato di Andrea Cappellano che celebra proprio l'amore puro, anche in considerazione del fatto che è quello che può creare meno difficoltà alla donna, perché evita la gravidanza, evita la perdita della verginità e dice anche Andrea Cappellano, imbrognando un po', e non offende Dio, quindi ha anche poi tutta una serie di vantaggi molto molto pratici. Di contro alla disinvoltura degli abbracci tra amanti, c'è poi invece la demonizzazione degli abbracci, pensiamo, e questo è un altro capitolo, come siano pericolosi gli abbracci di alcune donne. Ci sono delle donne tremende che insidiano irreprensibili cavalieri, irreprensibili santi, pensiamo anche soltanto alle tentazioni a cui furono così sottoposti molti monaci, molti eremiti con queste donne terribili, che a volte svaniscono, perché il punto è proprio di verificare la loro disponibilità a farsi abbracciare, e il santo ovviamente si ferma sempre prima. Tanto che nel Medioevo l'Ussuria stessa è spesso raffigurata come un abbraccio. Nell'esposizione in molte chiese romaniche, sull'esterno della chiesa stessa, sono rappresentate queste figure da una sorta di repertorio del male, e non manca mai l'abbraccio, in questo caso anche molto esplicito, non solo tra l'altro un uomo e una donna, ma anche tra due uomini, proprio come immagine del male, come immagine della lussuria. Quindi un grosso capitolo è dedicato all'abbraccio tra amanti, con riferimenti anche appunto di tipo artistico-visuale, e poi c'è un capitolo dedicato invece all'abbraccio ai bambini, o meglio, al portare in braccio i bambini, che molto spesso poi si risolve anche in un abbraccio. Qui l'immagine più indagata e più comune è quello della Madonna con il bimbo in braccio, e qui ho cercato di analizzare qual è il significato di questa figura così importante, così frequente, dove ciò che noi leggiamo come una relazione materna, in effetti era molto di più, perché è la Madonna con il bimbo in braccio, con il bimbo in braccio che coccola, quindi la cosiddetta Madonna della tenerezza, una figura teologica, più ancora che la rappresentazione di una mamma. Quindi ho cercato di analizzare appunto i diversi significati, le diverse situazioni in cui la Madonna abbraccia il bambino, ma poi ho cercato di analizzare la funzione dell'abbraccio di altre madri. E quello che mi ha colpito è come comunque i bambini siano abbracciati, dove l'abbraccio significa, ripeto, non il mero trasporto, ma si arricchisce di altre valenze, per cui l'abbraccio materno protegge, protegge spesso anche a scapito della propria vita. Lo celebra anche Dante, pensiamo solo alla strage degli innocenti, dove le mamme fanno scudo con il proprio corpo ai bambini. E quello che colpisce comunque, come le madri, anche in situazioni di abbraccio funzionale, non manchino mai di avere un'attitudine affittuosa, cosa che invece manca agli uomini. Ecco, mi ha colpito nella relazione con i bambini come ci sia una precisa distinzione di genere. Cioè, se anche gli uomini recano in braccio dei bimbi, recano in braccio il figlio, gli uomini tendono ad avere braccia efficienti. Le donne tendono ad avere braccia efficienti, ma nel contempo affettuose. Quindi mi ha molto colpito appunto questa distinzione, come mi ha colpito il fatto che ci siano non solo madri, ma anche vice-madri, donne che in un'epoca in cui molti erano i bambini che perdevano per motivi diversi la madre o che erano affidati a baglia o che erano abbandonati, come ci sono molte storie, molte immagini di altre donne che fungono da madre con altrettanto affetto. E questo è un altro capitolo del libro. Poi ho analizzato l'abbraccio di accoglienza, quindi che anche è una cosa che ancora ci riguarda, quando troviamo qualcuno, soprattutto ritroviamo qualcuno, in genere lo abbracciamo. E qui nell'arte e nella letteratura sono molti gli abbracci di accoglienza quasi determinanti, direi. Tra i più famosi pensiamo all'abbraccio della visitazione, quindi tra Maria ed Elisabetta. E anche lì è curioso, perché il Vangelo non cita espressamente un abbraccio, ma l'abbraccio diventa la figura stessa dell'incontro. E di nuovo, dietro quello che sembra un gesto, tra virgolette, ordinario, la gioia di due donne che si ritrovano incinte tutte e due, di nuovo qui dietro c'è un valore simbolico, c'è una figura teologica molto importante. Ecco, perché quello che ho scoperto e poi ho cercato di evidenziare come l'abbraccio sia sempre portatore di informazioni altre rispetto a ciò che si vede, a ciò che è di prima interpretazione. Ecco, quindi l'abbraccio, dicevo, tra Maria e Elisabetta, ma poi sono tantissimi gli abbracci di chi accoglie e di chi si trova. Sto pensando tra San Paolo Eremita e Antonio Abate, ma poi anche in ambito laico e la gioia di incontrarsi, tra l'altro accentuata nella descrizione scritta da, per esempio, grida di giubilo, da esternazioni vocali, da accentuazioni espressive e nella parte visiva accentuata da una forte tensione tra i due corpi, quindi si tende proprio anche ad accentuare oltre all'abbraccio la gioia e la volontà di abbracciarsi. Ovviamente ancora di più quando non ci si trova, ma ci si ritrova e sono tantissime le situazioni e le storie in cui due persone innamorate, ma anche amici, ma anche quant'altro, che si sono persi e che temevano di non vedersi più hanno invece modo di ritrovarsi e ancora di più quando capita di riabbracciare qualcuno che si credeva morto. Pensiamo a molti miracoli concessi da santi, capaci di ridare la vita e la gioia poi, l'enfatizzazione di questo miracolo tramite l'abbraccio, quindi chi corre a riaccogliere e chi allunga le mani per essere accolto. Quindi l'abbraccio con cui si accoglie e ovviamente anche l'abbraccio con cui ci si lascia. E anche qui ci sono decommiati che diventano clamorosi, davvero, che determinano una variazione di quello che è il percorso narrativo. e quindi anche la tipologia appunto dell'abbraccio con cui ci si lascia. Dopodiché prendo l'indice perché sto andando a ovviamente si lasciarsi e tra gli abbracci con cui ci si lascia quali sono i più clamorosi, i più eclatanti? Quelli in cui ci si accommiata da qualcuno che muore. L'ultimo abbraccio dedicato anche spazio a questo aspetto ci sono degli ultimi abbracci strazianti tra innamorati di nuovo Tristano e Isotta ma pensiamo anche all'ultimo abbraccio di Maria al figlio morto. Quindi l'abbraccio a chi muore e l'abbraccio a chi invece è morto e che c'è una ricchezza iconografica di nuovo straordinaria. un altro aspetto che sono andata ad affrontare è quello di come al di là del valore strettamente affettivo e quindi dell'aspetto intimo quasi l'abbraccio diventi spesso un gesto sociale un gesto che va a rinsaldare delle relazioni anche di tipo civico di tipo comunitario per esempio non so prima della battaglia di Montaperti i senesi fecero pace anche gli avversari per fare il gruppo insieme e si baciarono e si abbracciarono l'abbraccio infatti accompagna il bacio di pace che era questo rito così importante anche spesso raffigurato diventa anche una disponibilità al mutuo soccorso cito un'immagine che tutti forse conoscono i tetrarchi sull'esterno di San Marco a Venezia questa sorta è una scultura quasi statua che rappresenta appunto le due coppie di Augusti e di Cesare che si abbracciano ecco però quell'abbraccio non è un abbraccio appunto d'affetto ma è la traduzione visiva di un'organizzazione politica l'abbraccio in questo caso esprime la disponibilità a soccorresi la disponibilità a come dire a regnare insieme a subentrarsi anche perché è un abbraccio reciproco delle due coppie ma all'interno di ciascuna coppia c'è l'uno che domina l'altro quindi è anche un abbraccio che include delle precise gerarchie quindi gli abbracci di pace di soccorso e di sonforto e anche qui per esempio un caso è quello della Madonna della Misericordia la Madonna cioè che accoglie sotto il suo mantello i suoi chi le si rivolge ecco in questo caso è un abbraccio ampliato è un abbraccio che vuole essere più grande di quanto non potrebbero le braccia e quindi le braccia aprono il mantello per poter raccogliere appunto i fedeli che le si rivolgono ma un abbraccio sostanzialmente resta ho cercato poi di analizzare come in fondo ci siano anche degli abbracci con una funzione se vogliamo più meccanica e non necessariamente buoni perché anche la lotta presuppone un abbraccio e quindi sono frequentissime le situazioni in cui ci si avvindia ma con un'intenzione violenta e anche per violentare una donna si abbraccia una donna e quindi ho cercato di evidenziare anche questa declinazione a cui solitamente non non si pensa perché l'abbraccio si impone può diventare una morsa e tra l'altro è curioso come nella nella traduzione visiva in fondo molto spesso l'abbraccio buono e l'abbraccio negativo non siano fisicamente così distinguibili è il contesto che ci aiuta a capire qual è il funzionamento di ciò che sta avvenendo quindi diventa davvero anche complesso e anche interessante da questo punto di vista ho cercato di analizzare poi l'abbraccio a gambe e piedi e l'abbraccio delle proprie gambe dei propri piedi perché appiene questo abbracciare le gambe e i piedi di qualcuno è un gesto di prosternazione è una dichiarazione di sottomissione è un'invocazione d'aiuto sia in ambito politico che nei confronti dei santi spesso si invoca un miracolo chinandosi e appunto abbracciando i piedi e le gambe di qualcuno che si riconosce come superiore santo ma non soltanto santo ma si abbracciano anche le proprie gambe e i propri piedi sono gli accidiosi i pigri per cattiva volontà o appunto per pigrizia che sono spesso rappresentati seduti a terra e mentre avvolgono le proprie gambe è un modo per visualizzare un esternarsi dal mondo un esternarsi da quello che succede intorno e poi c'è un capitolo dedicato agli abbracci non tra persone ma tra persone e cose e anche questo è un capitolo che devo dire mi si è ampliato tra le mani perché si è dimostrato ricchissimo perché si abbracciano animali con significati diversi non so da un San Francesco che non solo in qualche modo manifestava un amore anche per le bestiole per cui le bestioline gli salivano addirittura rifiutavano di andarsene quindi questa manifestazione di amore verso il creato che si che si esternava anche attraverso l'abbraccio alle creature ma poi ci sono e anche qui sono tantissimi gli esempi non so Gesù che abbraccia l'agnello di nuovo con un significato traslato simbolico ma devo dire che si abbracciano animali ma non solo animali ma anche oggetti cose immagini quindi storie di innamorati che abbracciano l'immagine dell'amata pigmalione mito antico ma che poi nel Medioevo viene riscritto viene reinterpretato quindi che abbraccia la statua dell'amata che abbraccia la figura dell'amata e l'abbracciare delle figure sacre e si abbracciano anche le sacre cune così come di contro ci sono delle immagini che abbracciano e anche questo mi ha stupito delle immagini che si animano per abbracciare talora o per impedire di abbracciare per esempio ci sono delle storie per cui l'immagine della Madonna si anima per impedire che due sposi si abbraccino o ci sono storie per cui l'immagine della Madonna col bambino si anima e presta il suo bambino e qui c'è poi l'ampio capitolo degli abbracci con il divino ed è un capitolo complesso perché pensiamo soltanto alle mistiche che si mettono in relazione con il divino nell'estasi nelle loro esperienze e le descrivono con una sensualità per noi quasi sconvolgente perché l'intensità della relazione con lo sposo divino è descritta come fosse un incontro d'amore con grande concretezza e quindi abbiamo appunto l'abbraccio al al Dio soprattutto al Cristo che tra l'altro restituisce questo abbraccio così come prima mi sono dimenticata gli abbracci con cui siamo accolti in cielo quindi c'è questa relazione con il divino questo è tipico del del medioevo dare concretezza anche a queste figure che ci sembrerebbero fuori da questo mondo invece la gioia dell'incontro con il divino si rappresenta come prendendo a prestito quella che è la gioia fisica concreta di un incontro corporeo di un incontro amoroso e quindi appunto l'abbracciare cose le immagini che abbracciano e poi ovviamente un capitolo è dedicato agli abbracci impossibili virtuali e anche qui le categorie sono tantissime perché ovviamente si abbracciano le ombre e qui ovviamente già nei poemi antichi ma pensiamo anche solo in Dante quanto spesso capita di abbracciare le ombre dove poi l'abbracciare l'ombra diventa una figura di cosa vana di cosa inutile ma poi è un termine che utilizziamo noi ancora oggi l'abbracciare una forma di vita l'abbracciare un'idea dove l'abbraccio diventa un'addizione un incontro quindi ci sono anche queste queste declinazioni che sono di abbracci metaforici e anche qui si è dimostrato ricchissimo un mondo molto molto ricco fino alle raffigurazioni per cui non so si abbraccia la croce ma abbracciare la croce non significa tanto fisicamente abbracciare il legno della croce diventa appunto metafora e quindi spesso vediamo che ne so che sotto la croce vediamo cingere la croce non coloro che erano presenti storicamente ma per esempio altri santi pensiamo quante sono le immagini in cui Francesco abbraccia la croce dove ovviamente abbracciare la croce significa aderire a quello che è l'insegnamento di Cristo ecco e questo quanto in modo molto sintetico perché ripeto è molto è molto complesso è molto articolato e davvero continuava ad arricchirsi di declinazioni e di cose ho cercato di dargli un pochino d'ordine spero di esserci riuscita e sicuramente tanto altro c'era tanto altro avrebbe potuto esserci forse è così una traccia da cui partire è davvero un argomento immenso 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 e che va oltre le epoche perché praticamente tutta la nostra esistenza è fatta di abbracci sia oggi che ieri quindi è davvero un pensavo come in occasione delle limitazioni durante il covid ci siamo accorti come mancassero gli abbracci ci siamo trovati in un'epoca di astensione necessaria e questo forse ci ha fatto riflettere su quello che era il loro valore così come provate a pensare ma qui non so l'abbraccio tra San Pietro e San Paolo così importante così spesso raffigurato beh ha lo stesso valore dell'abbraccio tra Paolo VI e il patriarca di Gerusalemme cioè rappresentava l'incontro tra un possibile incontro auspicava un possibile incontro tra due chiese diverse in quel caso la chiesa dei gentili la chiesa degli ebrei ma l'abbraccio recente di Papa Francesco con Liman non mi ricordo il nome di Liman sta a significare la stessa cosa l'abbraccio a suo tempo a Rimini tra Gorbachev e Bush anche oggi ci capita di vedere degli abbracci che vanno oltre l'identità personale di chi di pratica che diventano tramite di una volontà più o meno sincera di abbraccio addirittura tra popoli tra culture quindi mi interessava anche questo come si va dalla dimensione appunto intima a una dimensione invece che diventa politica che diventa sociale è una sfera anche come dire simbolica che racchiude una quantità di simboli e simbologie enormi quindi io a questo punto non aggiungo una cosa scusa Maurizio non l'ho citata il valore dell'abbracciare gli ultimi la disponibilità ad abbracciare gli ultimi diventa davvero un segno quasi di santità tanto più quando si è disponibile ad abbracciare gli ultimi tra gli ultimi lebrose San Francesco che abbraccia lebrose che chiede ai suoi fratelli di fare altrettanto una santa radevonda che non teme di abbracciare le lebrose c'è una sua una sua serviziale che dice ma perché li abbracci guarda che questo fa chiacchierare e poi qualcuno non vorrà più avvicinarsi a te perché hai abbracciato i lebrosi e le lebrose e lei risponde ma chi se ne frega se tu non mi bacerai io credo in questa cosa San Martino che abbraccia un lebroso no quindi anche diventa anche un un gesto di accoglienza tanto più significativo tanto più c'è uno scatto sociale tra chi è disponibile ad abbracciare e chi viene abbracciato nelle opere di misericordia a volte appare questo gesto che è un gesto appunto di inclusione non solo affettiva ma anche sociale quindi ecco spero di aver dato magari con un po' di confusione perché così l'idea di quanto ci sia dentro un abbraccio più che confusione mi è sembrato entusiasmo per questo lavoro quindi a questo punto io devo ricordare il titolo in modo che possano correre in libreria ad acquistarlo e il titolo è un medioevo di abbracci e qui se come ce l'ho qui sì 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 lo so a copertina c'è sempre all'inizio delle mie videopartizioni ecco sì 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 volevo farla vedere e merita di essere vista per cui dicevo il titolo è un medioevo di abbracci non solo d'amore non solo umani appena pubblicato dal mulino di Virtus Daliot che abbiamo avuto l'enorme piacere di avere nostra gradita ospite io a voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale youtube dove trovate tutte le videopresentazioni realizzate fino ad oggi e a Virtus un grandissimo grazie grazie a te grazie a voi e alla prossima tra un po' di tempo però grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti